Sono contento della vittoria Indicoppa con la San Benedettese perché comunque ci ha proiettato un clima di entusiasmo anche per i nostri tifosi, sono contento soprattutto per loro e per la città di Teramo che comunque, vista la grande rivalità, si sono potuti godere una buona serata di calcio e questo è l'aspetto più importante dal punto di vista umano. Poi per quanto riguarda la partita di domani, dopo la partita sapremo se abbiamo raccolto delle utilità sul gioco e sul risultato. È sempre una linea sottile, è sempre difficile per tutti stabilire se questa linea è entusiasmo o euforia, quindi non sono certo io così bravo a capire questa piccola differenza che è comunque una piccolissima differenza. Io spero che in cuor mio sia entusiasmo, anzi sono sicuro che è entusiasmo e credo che i ragazzi siano motivati a dare il massimo, che come sapete il mio pensiero di dare il massimo è sinonimo di successo, indipendentemente da ciò che dice il tabellone. Credo che sia una squadra che gioca con 11 calciatori sicuramente, almeno all'inizio, avrà un portiere, 4 difensori, 3 centrocampisti, una mezza punta e due punte e quindi almeno per adesso sarà così. Ma noi dobbiamo pensare a quello che è il teramo e il nostro atteggiamento, indipendentemente dall'avversario, dovrà essere per volontà e non per dovere, quindi a me non piacciono i concetti di doverizzazione, di dover fare qualcosa per forza. Ognuno deve essere libero di interpretare ciò che vuole e quindi per volontà dobbiamo entrare in campo con la massima attenzione e cercando di divertirci e di applicare, tra virgolette, quello che proviamo in allenamento e in gara. La gara di coppia ci ha dato tante certezze ancora più di quelle che avevamo e quindi se ci riferiamo ai calciatori impiegati ci ha dato delle certezze e questo è motivo di insonnia da parte mia perché comunque fare delle scelte così difficili perché veramente hanno dimostrato tutti di poter avere una maglia da titolare, quindi fare queste scelte sarà una nottata veramente dura. Grazie a tutti.